Covid-19 in Sicilia, 1.079 positivi in nessuna vittima, Siracusa in discesa alla curva dei contagi nelle 24 ore. Sono 1.079 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.948 tamponi processati. Ieri erano 1.595, il tasso di positività all'8,9% in diminuzione rispetto all'11,6% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi, gli attuali positivi sono 71.215 con un aumento di 1.069 casi, non ci sono guariti e vittime. Il totale dei 10 si resta a 12.126. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 317, 25 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25 e 2 in meno rispetto al giorno prima. Per quanto concerne il numero di contagi a livello provinciale, Palermo 239, Catania 233, Messina 203, Siracusa 94, Argento 75, Trapani 75, Ragusa 63, Enna 46, Caltanissetta 42.